Musica Konnichiwa E benvenuti qui nel mio canale, come sempre, Giappo Gamer Eccoci, giunti a un nuovo episodio di Ninjin e Clash of Carrots Per continuare questa avventura, beat'em up dal gusto retro In collaborazione con Element, lo vedete in alta destra Element è la multigaming, più grande d'Italia Che racchiude in sé youtubers e streamers Ovviamente come fosse una grande famiglia Allora, bene così, ecco il nostro coniglio ninja, Ninjin Per l'appunto, e vediamo un po' Oggi un nuovo episodio, eccoci qua, sfida del ghiaccio e del fuoco Giochiamo, si può giocare anche online Come avete ben visto Si può giocare anche in cop, che può essere una modalità carina Perché può essere sia vi ho giocato Scusate In locale, con un vostro amico a fianco a voi Oppure online, con un vostro amico online Dipidiamo un po', dove gaspita stiamo qua Dentro una grotta? Mmm, doveva essere già arrivato Ma chi? È in ritardo di nuovo È sempre stato così, fine tempi dell'asilo Oh, eccolo Ehi Ti avevo detto di venire qui di mattina presto Ehi, fratello, come butta? Butta male, ecco come Male, male Dovevamo trovarci qui presto per pianificare l'imboscata Calma, bello Tutto sotto controllo E poi come faccio a sapere quando è giorno che siamo in una grotta? Ah, basta, me ne vado È sempre stata una testa calda Beh, vorrei dire che dovrò sistemarti prima che si arrabbi ancora di più Niente di personale, amico, eh Si parte Allora, vediamo un po', po', aio E becca di questo Ok, bene così Ondata 1 Vai così, vai così Questo spadone E dati mi caldo che ci devo fare la centrifuga Ok, bene così Aio Vai così Aio Bastardi, maledetti E becca di questo Così, oh Bene così, è andata a 3 No, non t'attaccare Fantasmino maledetto E becca di questo qua Così, ok A me la grotta colorata Bene così Salute Più 3 Aio 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 Ok Mamma mia Quanto è tecnico Aio Aio Ok Bene così Bene così Ok Becca di questo Va di melanzana Buona così E fatti beccare Ok Ondata 6 Vai così Vai trasformazione In dragone Vai Venite qua Fate beccare tutti quanti Dai che vedo fuoco E dai miei caroli Ci devo fare la centrifuga Mortacci vostri Ok Ondata 7 Vai Vai così No Aio 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 No Dai No Dai Su Aio Vai un po' di carote A me Bene così No Che cazzo Voglio tutti questi fantasmini Maledetti Uh Il carretto Il carretto Il carretto Il carretto Vai così A cazzarola Dai E toglietevi Fantasmini Maledetti Dai E toglietevi Vi incollate Cazzarola E toglietevi Aio Beccati questo Ok Cavolo E dai Su Combo 2 Ok No Dai Su E scollate Ok Bene così E via un po' Non funziona niente Fratello Lo so Quel maldietto coniglio Ci sta facendo a pezzi Sparra più piano Quello ci sente Dunque Dovremmo ricorrere a quelle Ah si Quelle Pss Non usare quel Pss Con me Ok ok Dai Usiamo Le nostre super mosse Ci siamo allenati Fino a quando eravamo piccoli Spero che ci servano Forza E venite qua Aio Fratello Sì Gliatta Mamma mia Per un pelo di nulla Gliatta Bene così Bene così E due fratelli Ghiaccio e fuoco Sei sono andate Bene Carote raccolte 515 Tempo 523 Rango Ah Iatta Bene così Ottimo Un distitivo d'oro Spadacino Versatile Trofeo guadagnato di giornata Bene così Ma sai C'è ancora un rango più alto Mamma mia ragazzi Bene così Ottimo Iattane Iattane Bene bene Veramente timpale Questo beat em up Veramente Dal gusto Retro gaming Per la grafica E per la giocabilità Ok Bene così Allora Vediamo un po' Salvataggio in corso Ok Quindi Probabilmente Molto probabilmente Il prossimo episodio Vedremo questo 2.5 Moe Junior Colpisce ancora Ok Va bene Ma per quanto riguarda questo episodio Vi invito A lasciarmi un bel like Un commento Un condivisione E ovviamente sempre in collaborazione con Element Multigaming La più grande multigaming d'Italia Che raccoglie Youtubers E streamers Un po' qua Un po' là In Italia Portiamo avanti Tanti videogames Siamo un po' come una grande famiglia Di cui faccio finalmente parte E quindi vi ricordo Se comunque avete un canale Con più di 500 iscritti Potete fare la richiesta Per fare parte Della nostra famiglia Io vi invito a seguirmi I miei vari social Per rimanere sempre più aggiornati Con me Ovvero sulla pagina facebook Su twitter Su instagram Sul canale telegram Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Io vi ringrazio Uno a uno Per essereati Fin qui Dal vostro Giappogamer È tutto Sayonara E ai prossimi episodi E ai prossimi episodi